Sì, i leoni sono contenti di questo tempo che viaggia veloce, anche perché ci sono in arrivo notizie importanti che li riguardano. Stiamo parlando di Venere, che sta per entrare nel segno dell'Ariete, già ha iniziato a far sentire il suo influsso per i nati nella prima decade. Devo dire che questa è una giornata che vi vede in netta ripresa rispetto al weekend al fine settimana, in cui eravate piuttosto scorbutici, anche giù da un punto di vista fisico, oltre che umorale, adesso invece avrete la possibilità di riprendere in mano tutte le situazioni che vi stanno a cuore e che riguardano il vostro lavoro. A proposito di lavoro, devo dire che questo è un momento in cui le azioni devono farsi più ficcanti, ecco perché? Perché Mercurio, abbiamo parlato di Venere, ma anche Mercurio sta per cambiare segno, uscirà dal segno dell'Ariete, per entrare nel segno del Toro lo farà nei prossimi giorni, quindi è imminente questo cambiamento, ecco perché dovete approfittare di ogni possibilità, di ogni occasione per chiudere un contratto, stringere un nuovo accordo professionale, per fare anche un investimento economico, finanziario, dovete approfittarne proprio in questi giorni, in queste ore oserei dire.